Giornate formative, energie rinnovabili, opportunità e modalità di installazione di impianti fotovoltaici in Italia l'Ordine degli Architetti della Provincia di Taramo organizza in collaborazione con Conforma, l'ente di formazione del sistema confartigianato Taramo due giornate formative sul tema delle energie rinnovabili ed in particolare sulle opportunità e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici. Ecco l'importanza del corso. Sì, l'Ordine è interessato sia a una collaborazione con la Conforma per altri corsi di formazione sia a presentare e organizzare altri momenti formativi sui temi delle energie rinnovabili anche perché sono un'importanza rilevante per la nostra categoria. Il tema delle energie rinnovabili è molto sentito ultimamente anche dopo i noti eventi del Giappone quindi la consapevolezza del fatto che l'energia nucleare non è un'energia che ci dia tutta questa sicurezza quindi l'Ordine in collaborazione con Conforma che voglio sottolineare si è prestata gratuitamente a fare queste due giornate formative per i nostri iscritti ha deciso di approfondire i temi soprattutto in materia di fotovoltaico e di energia fotovoltaica e ha riscontrato un grosso interesse degli iscritti, dei nostri iscritti che hanno partecipato numerosi. Queste due giornate come verranno strutturate? Ci sarà una prima giornata che avrà un approccio più normativo quindi verranno spiegate le normative sia in campo europeo che in campo nazionale che le linee guida nazionali e regionali e poi ci sarà una seconda giornata più applicativa dove si spiegheranno meglio le tecniche di installazione dei pannelli fotovoltaici e degli impianti fotovoltaici. Mariano Pasqualoni, lei è relatore di questo corso che si svilupperà appunto in due giornate. La finalità? La finalità è sostanzialmente quella di cercare di mettere un po' di chiarezza o meglio di esporre quelle che sono le problematiche attualmente sul tavolo e rendere consapevoli gli operatori soprattutto professionali sia sui lineamenti del sistema che è stato rimesso in piedi ecco dopo praticamente l'abrogazione del terzo conto energia e sia degli aspetti fiscali ed economici che si vanno a interallacciare e creare un quadro che è piuttosto anche difficile da comprendere nelle sue conseguenze e nel modo anche di approcciarsi ad esso quindi riuscire a rendere un intervento coerente all'altezza delle aspettative che i vari operatori istituzionali o meno anche privati si aspettano di ottenere appunto dal loro investimento o dalla loro iniziativa in genere. Ecco essenzialmente questo come si potrebbe contrastare? Si tratta purtroppo di riuscire a dare una sufficiente chiarezza a un quadro normativo che è stato molto confuso dagli ultimi interventi legislativi e calare praticamente questo quadro normativo in quella che è la realtà tecnica questa è la cosa più complicata e quindi trarre le debite conseguenze sia dal punto di vista economico toccando anche ovviamente gli aspetti della fiscalità e quindi anche facendo capire agli operatori quelle che sono le opportunità che ci sono e ci sono in questo settore nei vari segmenti operativi quindi parliamo di pubblico e quindi le opportunità che ci sono soprattutto per il pubblico parliamo per le imprese e parliamo di privati ognuno ha sostanzialmente un vestito diverso ha un quadro normativo differente e anche piuttosto variegato in relazione alla dimensione degli impianti all'ubicazione e quindi si tratta di riuscire a fornire una guida che sia sufficientemente chiara per orientarsi in questo campo